Buon pomeriggio mister, ben ritrovato, siamo ormai alla vigilia della prima partita ufficiale, ti chiedo di ripercorrere un po' questo periodo di precampionato, secondo te come è stato, se hai lavorato bene, se la squadra è arrivata al punto che volevi portarla prima della prima gara ufficiale. Praticamente buonasera e benvenuti a tutti, buon pomeriggio, è caldo. La seconda volta che ci vediamo, che parliamo dalla conferenza della mia presentazione, è passato un mese preciso dall'inizio del ritiro e siamo alla vigilia tra due o tre giorni dalla partita di debutto della stagione ufficiale. È stato un mese di lavoro importante, organizzato benissimo dalla società, abbiamo fatto un ritiro molto positivo dal punto di vista logistico, dal punto di vista delle strutture, organizzato benissimo, abbiamo fatto un periodo di amichevoli importanti, sono stati voluti da me, voluti dallo staff tecnico, alla fine di questo percorso significativo, sono contento e tutto è stato macchiato dall'infortunio grave di Wisn, che vorrei ricordare per noi è stata sicuramente una tegola importante in questo mese, però arriviamo alla fine di un ciclo, di un percorso che ritengo positivo e sono soddisfatto. Sì, Ministro, buon pomeriggio, avete ritrovato e ho parlato di un ciclo importante, positivo, abbiamo visto le partite sia nel ritiro che poi le ultime, abbiamo visto dei passi avanti di partita in partita, ecco le chiedo a che punto crede possa essere il suo spezia, quanto è riuscito a trasmettere a questi ragazzi e quanti margini ancora di miglioramento ci sono in questa squadra, grazie. Il lavoro da fare è ancora tantissimo, personalmente ritengo che è stato fatto un lavoro di base per costruire un'anima di squadra e non era facile, pochi hanno sottolineato il fatto che c'era da ricostruire tanto. Si è chiuso un capitolo, al momento siamo lontani ancora da quello che vogliamo essere, quello che mi fa piacere è la disponibilità e l'atteggiamento che la squadra ha messo dentro e la voglia di lavorare che insieme alla società e ai direttori abbiamo avuto per riprendersi dopo quello che è successo. Sì mister, ben ritrovato, le chiedo, l'altro giorno abbiamo parlato con il direttore Massia e ci ha detto che questa squadra secondo lui è pronta all'85% salvo sorprese, le chiedo a lei a questo punto a che punto è questo spezia, a che percentuale è secondo lei? Per quanto riguarda il percorso di lavoro dal punto di vista dell'organizzazione, dell'anima, ci abbiamo ancora tantissimo da lavorare per diventare quello che vogliamo essere, per essere protagonisti in un campionato difficile come la Serie B. Per quanto riguarda, come ha detto il direttore, l'85%, per quanto mi riguarda anche di più, perché io sono contento ad oggi della rosa che ho a disposizione, che mi è stata data e quindi sono molto contento, numericamente può mancare un giocatore in difesa, visto quello che è successo a Wisn e questo lo sappiamo, per il resto se non parte nessuno, per me siamo già a posto così. Buongiorno mister, volevo chiedere se il direttore da subito ha detto che l'obiettivo è risalire, quindi l'ha messo chiaramente come obiettivo stagionale, volevo capire se per te era più un fattore di stress o un fattore di incentivo? Di stress assolutamente se devo essere un allenatore, per me è gratitudine allenare lo Spezio ed essere qua, stress è zero, assolutamente, allenare una città che negli ultimi tre anni è stata protagonista in Serie A, così è sicuramente motivo di soddisfazione. Io sono concentrato su quello che devo fare, il mio focus è solamente sul lavoro e nel mio staff, sono contentissimo di allenare qua e concentrato sul campionato. Poi, oltre a noi ci saranno, il campionato di Serie B è difficile, lo sappiamo, ci saranno altre squadre, ma noi vogliamo, abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo fare, punto. Salve mister, buonasera, veniamo alla partita di lunedì, quindi un esordio e come tutti gli esordi non è facile a prescindere dall'avversario che si incontra, sia molto da perdere o tanto da guadagnare dalla partita di lunedì sera col Venezia, visto che comunque è una squadra che affronteremo anche in campionato e tre è tra quelle che sono accreditate per far bene. Il Venezia è una squadra che l'anno scorso ha lottato per i play-off, è andata ai play-off ed era partita con un obiettivo importante, è una squadra di grande rispetto, a me piace tantissimo, non c'è niente da perdere e non c'è niente da guadagnare, c'è solo da fare il nostro meglio per cercare di fare il massimo, sempre. È una partita di livello, di spessore, ritengo loro un avversario importantissimo per la vittoria del campionato, per me lo dimostra il fatto, le idee chiarissime che hanno, avendo ieri rinnovato per tre anni un allenatore in Serie B, penso non esista, è difficile trovare una cosa del genere in Italia e questo la dice lunga sui programmi, sulle idee che hanno. Grande rispetto per loro, per me è una partita di livello alto contro un avversario forte. Buon pomeriggio mister, io volevo chiedere una domanda sul reparto offensivo. Sono arrivate buone indicazioni dalle amichevoli, da Moro, da Crollis e da anche il nuovo arrivato esposito, quindi volevo chiederle se in futuro potremmo vederli anche in coppia o solamente uno in alternativa all'altro. Bisogna anche fare un'analisi, ci siamo visti un mese fa, è passato un mese, esposito è arrivato la scorsa settimana dopo, quindi sicuramente noi lì abbiamo tre attaccanti importanti, giovani, abbiamo fiducia in loro, Moro, Crollis ed Esposito e poi possiamo lavorare anche insieme con due, non è assolutamente un problema, sicuramente sono molto molto contento di tutte e tre e mi piace. Una domanda un po' particolare perché è ovvio che mancando ancora 20 giorni alla fine del mercato, come sappiamo può succedere di tutto, tu pensi però che quelli che hai a disposizione ora abbiano tutti convintamente sposato lo Spezia, almeno mentalmente, perché poi quando si vede che tutti si lavora per un obiettivo, se manchi mentalmente è finita, quindi io penso che finora, almeno quello che si è visto nelle amichevoli, sono tutti coinvolti nel progetto, poi è chiaro che se arrivano offerte da una squadra di serie A alta posso capire che un elemento possa anche andare via. Però come li vedi i tuoi ragazzi? Io li vedo coinvolti, col giusto atteggiamento, ripeto abbiamo bisogno di qualcosa di dietro, con determinate caratteristiche, poi se non esce verde, perché tanto a me va bene andare avanti così, molto chiaro, mi ritengo soddisfatto, li vedo tutti coinvolti, oggi non posso pensare assolutamente a fare a meno di Drago, di Zoet, di Ammian, di Nico, di Basto, di Recca, di Ekda, di Salvatore nel mezzo, tutti i giocatori di Giurco, tutti i giocatori sui quali vogliamo, vogliamo fare il nostro percorso insieme, vogliamo far bene insieme, li vedo tutti coinvolti e di questo sono contento e il merito è tutto loro, di quello che mi stanno dando, abbiamo le idee chiare, il direttore ha chiesto, ha detto quello 85, io per me siamo già al 90, molto chiaro. Sì mister, quando ci siamo presentati un mese fa non avevamo parlato di moduli, di schemi, lei ci ha detto che i numeri alla fine rimangono numeri, poi in campo abbiamo anche visto cosa vuol dire questa cosa perché il suo spezia si muove molto, non dà grandi indicazioni anche dal punto di vista numerico della posizionamento in campo, le chiedo se l'arrivo di un giocatore come Antonucci non possa cambiare un pochino quella che è l'idea offensiva della squadra, mi spiego meglio, Antonucci è un giocatore che gioca anche sull'esterno ma si trova molto bene tra le linee dentro al campo, ecco questa sua posizione può essere una variabile importante per lo spezia che sta nascendo e che si veda da qui in poi? Ma i tre giocatori davanti hanno molta libertà di manovra, possono lavorare in ampiezza, possono lavorare più dentro il campo, possono andare a lavorare due sotto, questo Mirko è un giocatore che può muoversi liberamente sul fronte d'attacco e non lo scatoliamo certo dentro movimenti precisi, in queste partite ha giocato più aperta, ha giocato più sotto, più accanto alla punta, dietro due punte perché abbiamo fatto anche quello, è un giocatore moderno, amo le sue caratteristiche e può giocare ovunque davanti, addirittura per me può fare anche la mezzala, quindi giocatore straordinario, ringrazio la propria proprietà, la società, i direttori di avermelo messo a disposizione. Sì mister, ci sono tanti giocatori che hanno un po' stupito in questo ritiro, uno tra tutti che è il primo che mi viene in mente è Zipot che mi ha colpito molto, giocatori giovani in questo spezia, c'è qualcuno che l'ha colpito particolarmente al di là del contesto di gruppo e come vede insomma ad esempio Zipot che secondo me ha fatto un ottimo precampionato. Se alla fine analizziamo bene la rosa, ci sono tanti ragazzi giovani, tantissimi, sui quali costruire qualche cosa, sui quali costruire un futuro e avere una base di lavoro, insieme a tutto lo staff che ha fatto in questo mese un lavoro straordinario, a direttori, la squadra ha una sua esperienza ma al suo interno anche ragazzi di prospettiva, oggi Candellari è 2005, Salvatore Pio è un 2005, Pietra, abbiamo tanti, Sipot e abbiamo tanti ragazzi che possono avere un percorso importante, di questo io sono felice di poterli allenare. Scusa mister, tornando al discorso appunto della squadra come organico, come giocatore a disposizione mi ricollego sempre al discorso dell'85%, se hai avuto rassicurazioni comunque dalla società che non verranno meno i giocatori che hai appena citato? Su questo, poi se ci sono delle offerte di mercato irrinunciabili, queste saranno altre valutazioni che non spettano a me, a oggi come ho detto io sono molto contento della squadra che ho, è stato fatto un lavoro straordinario dalla società, da direttori e io sono contento di allenare i calciatori che ho in questo momento, se verranno offerte non tocca a me valutarle, io oggi ho dato il benestare per questa rosa e sono, come ho già detto, gratificato per poterla allenare. L'ultima cosa che ti chiedo, hai parlato a livello di quello che vorresti dalla squadra che secondo te siamo ancora un po' lontani perché ovviamente la squadra ha bisogno di lavorarci ancora, invece a livello fisico come vedi i tuoi ragazzi? Parlando col professore, con Artico, con Simone Lorieri, con Giuntoli che sono responsabili della preparazione, ho parlato con Paolo, con Artico, è logico che ancora abbiamo da lavorare, ci sono alcuni ragazzi che arrivano da alcuni infortuni progressi, Mutigno, Joao Mutigno, che si portano dietro alcune situazioni, Cugnata praticamente fino ad oggi è stato infortunato, abbiamo ripreso da poco bastoni, ma quello che vedo è che tutti i ragazzi stanno progredendo giorno dopo giorno, ancora non siamo sicuramente pronti, ma siamo sulla strada giusta. Giusta, sono molto contento da questo punto di vista, sono contento dello staff che ho a disposizione, quindi da questo punto di vista andiamo avanti, ma sono soddisfatto. Grazie. 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 Grazie.